È una mostra organizzata dal Museo Picasso a Parigi, che non è solo una mostra, è una celebrazione internazionale di sei paesi che celebrano Picasso del Mediterraneo. Questa mostra è l'inaugurazione di questo evento che si fa tra l'Italia, la Francia, Spagna, l'Algeria, il Marocco e la Tunisia. Tutto il mondo è mediterraneo e il legame di Picasso con questo mondo. Inizia oggi a Capodinette.